Per tutti, per tutti, il gesto mio è stato per tutti, per tutta l'Italia, per tutti quelli che purtroppo non ci sono più, hanno avuto il coraggio di ucciderci. Se non mi aiutassero le persone, io non c'ho soldi, comprate a mangiare ragazzi, io non sto a scherzare. Non si mette mai in ginocchio. Le hanno detto non si inginocchi, non ci si inginocchia mai, lei lo rifarebbe? Assolutamente sì, lo rifarei davanti alla polizia, lo rifarei davanti ai carabinieri e lo rifarei davanti anche a Draghi. Lo rifarei davanti a tutti, perché non è stato un gesto di sconfitta, ma è stato un gesto di disperazione. E ripeto, un gesto di disperazione. Aspettiamo tanto, passa, passa, ma che passa, la roba va buttata via. Centinaia, migliaia, decine di soldi buttati via per la roba scaduta, nei magazzini, accantonata lì e non si sa neanche a chi dalla. Perché sono rovinata dalla nostra istituzione, che è sorda, che è cieca e che non vede migliaia, centinaia di noi, che non ha il coraggio di manifestare il problema e la nostra disperazione, non la nostra cattiveria, ma la nostra disperazione.